Musica Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato a maggioranza l'assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020 della Regione Umbria. Ce ne parla David Mariotti Bianchi. Con 12 voti favorevoli della maggioranza e 8 contrari dell'opposizione, l'Aula di Palazzo Cesaroni ha dato il via libera all'assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 della Regione Umbria. La manovra effettiva, che ammonta 4 milioni di euro al netto di tutte le operazioni compensative, è stata illustrata nelle relazioni di maggioranza, smacchi, PD e minoranza, carbonari, Movimento 5 Stelle. Approvati anche 9 emendamenti. 7 proposti dalla Giunta, tra cui uno riguardante la stabilizzazione dei precari del terremoto del 1997. Uno affirma smacchi, chiacchieroni, carbonari, liberati Morroni, Ricci, Rometti e Solinas per la delega amministrativa per la realizzazione e la gestione di opere pubbliche in favore dei consorsi di bonifica. E uno presentato dai consiglieri del Movimento 5 Stelle sull'acquisto di mezzi scolastici a basso o nullo impatto ambientale da parte dei piccoli comuni. Bocciati gli altri emendamenti proposti dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega. Il relatore di maggioranza, Andrea Smacchi, PD, ha ricordato che anche quest'anno vengono confermati gli equilibri di bilancio nonostante il forte impatto dei saldi di finanza pubblica. La manovra rafforza l'opera di razionalizzazione e contenimento della spesa e rifinanzia voci importanti in settori chiave per lo sviluppo e la promozione della nostra regione, come l'agricoltura, lo sport, il turismo, la mobilità e la cultura. Il relatore di minoranza, Maria Grazia Carbonari, M5S, ha detto che bisogna cambiare rotta, ci sono ancora degli sperperi. Dall'assestamento emerge una regione ingessata per capacità di spesa con scelte poco condivisibili. Per la Presidente della Giunta, Catiuscia Marini, le scelte compiute con l'assestamento tengono conto di aspetti che si sono andati definendo nel corso dell'esercizio di bilancio, visto che l'assestamento è un aggiornamento del bilancio di previsione. Con questo assestamento diamo atto del permanere degli equilibri generali del bilancio. Illustrati in seconda commissione dalla Presidente della Giunta regionale, Catiuscia Marini, i contenuti del disegno di legge sulla ricostruzione. Sviluppo economico delle aree colpite, semplificazione e sicurezza degli edifici, qualità dell'edilizia con l'utilizzo di tecnologie innovative, prevenzione. Sono queste le parole chiave delle norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, predisposte dalla Giunta regionale ed illustrate in seconda commissione dalla Presidente, Catiuscia Marini. Il disegno di legge prevede che, per contribuire a raccordare la fase di ricostruzione con quella dello sviluppo delle aree maggiormente colpite, venga previsto un masterplan per lo sviluppo della Valnerina. L'obiettivo è utilizzare la ricostruzione come occasione di riqualificazione del territorio e degli insediamenti. Si punta alla riduzione della vulnerabilità sismica e al rafforzamento, con gli strumenti e le scelte disponibili nel campo dell'attività edilizie, della percezione di sicurezza delle popolazioni al fine di scongiurare ogni possibile fenomeno di abbandono del territorio. Viene affrontato il tema delle delocalizzazioni, laddove le condizioni delle aree di sedime attuali di edifici e insediamenti, anche a seguito di indagini aggiornate, non siano in grado di garantire sicurezza o laddove essa consenta di incrementare la sicurezza degli insediamenti e degli spazi pubblici. Non sono previsti nuovi strumenti urbanistici. Previste invece per tutti i comuni del cratere un miglior raccolto con la pianificazione di protezione civile. Particolare attenzione viene posta alla ripianificazione per mettere sostanzialmente a sistema le aree trasformate a seguito del sisma e delle attività svolte nella fase di emergenza. Dal punto di vista edilizio si prevedono, con diversi gradi di flessibilità, interventi che riguardano l'assetto planivolumetrico degli edifici, con particolare attenzione anche a quelli che presentano contiguità strutturale con altri immobili. E sul disegno di legge della Giunta regionale per la ricostruzione delle zone colpite dalla sisma del 2016, la seconda commissione ha invitato in audizione le categorie professionali e le associazioni di categoria e dei sindacati. Vediamo. Con audizioni separate, la seconda commissione presieduta da Erosbrega ha ascoltato i giudizi sul disegno di legge della Giunta regionale relativo alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 2016, di rappresentanti delle categorie professionali, prima, e le associazioni di categorie e sindacali, il giorno dopo. Dagli ordini delle professioni tecniche dell'Umbria è emersa l'esigenza di garantire rapidità alle procedure, l'opportunità di non tenere conto dei piccoli abusi per non bloccare la ricostruzione, la necessità di garantire un'abitazione temporanea a chi deve ristrutturare la propria casa. È stato inoltre suggerito di prevedere da subito strumenti di riallineamento delle procedure urbanistiche una volta conclusa l'emergenza, di supportare i comuni nell'affrontare i meccanismi relativi a premialità e delocalizzazioni, di procedere all'individuazione di zone dove, a causa della forte amplificazione delle onde sismiche, sarebbe meglio non ricostruire, di richiedere al Governo nazionale la possibilità di pagare gli anticipi delle spese che i professionisti e imprese stanno sostenendo. I rappresentanti dei sindacati, CGL Cisle Will, hanno rimarcato le loro preoccupazioni rispetto al trasferimento in Umbria Salute e Servizi, prevista come centrale unica di acquisti, di alcuni servizi svolti oggi da Umbria Digitale. Questo, secondo i sindacati, rischierebbe di mettere in difficoltà la stessa Umbria Digitale, gli stessi lavoratori, in quanto la gestione informatica del servizio sanitario rappresenta il 60% del fatturato. Per Coldiretti occorre accelerare i tempi per una ricostruzione che punti sulla qualità degli interventi, prevedendo anche l'utilizzazione di nuovi spazi e cubature finalizzati a migliorare il sistema zootecnico. Per quanto riguarda le premialità di incremento delle cubature, è stata avanzata la richiesta di rendere più flessibili i parametri, ora fissanti al 20%. La ricostruzione delle attività produttive è la principale priorità indicata da Confcommercio, per contrastare lo spopolamento dei territori, che auspica anche una sollecitazione al Governo per trovare soluzioni idonee rispetto all'anticipazione IVA per la ricostruzione, che le imprese, andando a credito, rischiano di riprendere in tempi particolarmente lunghi, tali da creare gravi difficoltà. Lance, infine, ha puntato il dito sulla previsione di un'ulteriore verifica paesaggistica, che appesantirebbe e rallenterebbe la ricostruzione, ha poi proposto di rivedere i tempi di autorizzazioni sismiche, esprimendo anche il diniego al ridimensionamento dell'indennizzo da ritardo. E sempre in tema degli eventi sismici, la Presidente della Giunta regionale, Catiuscia Marini, ha illustrato in seconda commissione i numeri della gestione emergenza sisma 2016 e la situazione della ricostruzione. La Presidente della Giunta regionale, Catiuscia Marini, ha illustrato in seconda commissione una sintesi sulla situazione della ricostruzione post-sisma di agosto e ottobre 2016. Sono quasi 10.000 gli edifici danneggiati, il 45% di questi hanno subito danni lievi, mentre sono il 55% ad aver subito lesioni gravi. Risultano inoltre assistite 7.378 persone, 5.212 in autonoma sistemazione, 1.711 nelle soluzioni abitative di emergenza, 173 nei moduli abitativi rurali di emergenza, 181 in altra tipologia abitativa temporanea e ancora 94 nei container collettivi e infine 7 in albergo. Sono state finanziate opere pubbliche per 256 milioni, per complessivi 301 interventi, di cui 174 riguardano scuole, dissesti, strade, ospedali, patrimonio residenziale pubblico e 127 interessano gli edifici di culto. Con i 4.825.000 euro destinati all'Umbria da donazioni di privati attraverso il numero solidale, si finanzieranno soprattutto interventi per centri di comunità. E ancora la ricostruzione privata, la situazione per danni lievi, sono state dichiarate procedibili 628 domande su 646 presentate, 214 di queste sono in condizioni di iniziare gli interventi o hanno già avviato i lavori. Per i danni pesanti sono state dichiarate procedibili 47 domande su 49 presentate, 3 sono in grado di iniziare o hanno già avviato i lavori. Con 14 voti favorevoli del Partito Democratico, dei socialisti, del Gruppo Misto Democratici e Progressisti, del Gruppo Misto Ricci Presidente Italia Civica, del Gruppo Misto Umbria Next, di Fratelli d'Italia e Forza Italia e due astenuti, il Movimento 5 Stelle, l'Aula di Palazzo Cesaroni ha dato il via libera all'assestamento del bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020 dell'Assemblea Legislativa, previsto l'utilizzo di un avanzo libero che per il 2017 è pari a 1.162.000 euro. Di questi, 750.000 euro saranno impiegati per interventi di straordinaria manutenzione nella sede di Palazzo Cesaroni. Circa 237.000 euro per il potenziamento informatico, 80.000 euro saranno destinati a patrocini per iniziative di istituzioni o privati del settore sociale, 40.000 euro per progetti di collaborazione con l'Università di Perugia, 50.000 euro per l'adeguamento del fondo rischi. La terza commissione consigliare ha ascoltato in audizione il presidente dell'Associazione Specializzandi dell'Università di Perugia per approfondire il nuovo sistema di contribuzione studentesca. Dalla riunione è emersa la richiesta dell'adeguamento della tassazione per gli specializzandi medici ai criteri di legge, con un tetto massimo che non sia superiore a quello degli altri studenti. Inoltre, gli specializzandi chiedono che l'Università reinvesta parte della tassazione nelle scuole di specializzazione per garantire l'attività formativa. Al termine dell'audizione, il presidente della commissione, Atirio Solinas, ha proposto di proseguire l'esame della situazione, convocando un'ulteriore audizione a settembre con i rappresentanti dell'Università di Perugia per cercare di trovare una soluzione condivisa ai problemi sollevati. Ed è tutto per questa edizione di TeleCRU. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa regionale consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Ci rivediamo dopo la pausa estiva, alla fine del mese di agosto. Quindi una grazie per averci seguito e buona estate. Arrivederci. Grazie.